Buona serata a tutti, io sono Claudio Simeoni che gestisce la seconda parte della trasmissione Magia Stagonaria Paganesimo. Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito la lettura per cui è inutile neanche telefonare. Oggi continuerò la trasmissione cominciata l'altra volta parlando dell'attenzione. In base a quello che è successo nella trasmissione precedente, la seconda parte è anche fuori programma, io vorrei ricordare una cosa ai radioascoltatori, specialmente quelli di fede cattolica. Se vorrei ricordare loro che non è ammissibile, non è accettabile che loro pretendino in qualche modo la nostra sottomissione al loro Dio. Il Dio dei cristiani, il Dio dei cattolici appartiene a loro, non appartiene agli esseri umani. Nessuno può chiedere a me di rispettare Hitler che ha ammazzato 6 milioni di persone. Così nessuno può chiedermi a me di rispettare un essere che ammazza l'umanità, distrugge città, mette in ginocchio le persone. Io non posso fare questo perché non è rispetto che mi si chiede, il rispetto va dato alle cose, va dato alla vita umana, va dato al sistema sociale in cui viviamo. Ma si pretende che io mi sottometti. In pratica non si fa altro che fare in piccolo ciò che i rughi facevano in grande. In realtà, siccome una persona non si sottomette, allora la bruciamo, la intimidiamo, la costringiamo a dei comportamenti che lei non accetta. Questo è inammissibile. Vorrei ricordare che se i cattolici, oggi come oggi, possono diffondere la loro dottrina, lo devono soltanto grazie ai permessi concessi loro dalla Costituzione della Repubblica, che garantisce, nonostante loro continui a mettere in ginocchio i bambini, sottomettendo del macellaio di Sodoma e Gomorra, la Costituzione permette loro di continuare a coltivare il loro credo fin tanto che resta il loro credo. Ma quando il loro credo esce dall'ambito religioso e tende a impossessarsi del sistema sociale, a essere imposto agli altri, questo non è più accettabile. È un'offesa, è un attentato alla Costituzione della Repubblica. Pertanto invito i cristiani a smetterla di pensare il loro Dio come una cosa assoluta, come una cosa davanti alla quale tutti si mettono in ginocchio. Addirittura siamo arrivati al punto che dire Dio significa il Dio dei cristiani. Che assurdo! Noi, come pagani, abbiamo centinaia di divinità, abbiamo centinaia di dei. Ogni essere per noi è un Dio, per cui la pretesa dei cristiani di dire il mio è il Dio, è il Dio, tu mettiti in ginocchio, è assurda, è inaccettabile, perché disprezza tutte le altre divinità, tutti gli altri dei, di tutti gli altri credi, di tutte le altre nazioni. Pertanto è una pretesa assurda. Per cui non chiedete a me di sottomettermi al macellaio di Sodome e Gomorra. Non chiedetemi a me di accettare il diluvio universale come volontà del Dio rispetto agli uomini malvagi. Malvagio è il Dio. Malvagio è il più forte che schiaccia il più debole. La malvagità ha una definizione sociale, ha una definizione della moralità che è espressa dalla Costituzione della Repubblica. Non è l'idea a priori del Dio padrone. Il Dio padrone, per quello che mi riguarda, rappresenta il male, rappresenta la distruzione umana. Siccome questo l'abbiamo già detto parecchie volte, noi imputiamo al Dio, cioè noi vogliamo distruggere il Dio dei cristiani. Perché questo? La stregoneria ha fatto tre scoperte relative al Dio dei cristiani. Primo, ha scoperto che non esiste nessun Dio creatore. E come l'ha scoperto la stregoneria? Andandoselo a vedere. Dopo, logicamente, ve lo spiego. Secondo, ha scoperto che il Dio biblico non è altro che una forma di terrore che viene imposta alle persone indifese, specialmente ai bambini. Dopo si spiega perché si stuprono i bambini. La terza scoperta è che alcuni esseri di energia tentano di impossessarsi degli esseri umani per mungere da loro energia vitale e stagnata. Questi esseri di energia si spacciano per potenti, aspettano che un essere umano alteri la percezione e gli si presentano come Dio, come inviato dal Dio, come la Madonna, come qualunque cosa, per sottometterlo. Ora, non possiamo chiaramente distruggere ciò che non esiste, cioè il Dio dei cristiani, il Dio creatore non esiste, per cui non lo possiamo distruggere. La descrizione biblica la possiamo combattere logicamente. Possiamo eliminare il terrore dagli esseri umani, possiamo eliminare il terrore che viene imposto ai bambini. La terza, per quanto riguarda gli spiriti che si spacciano per Dio, là ce la giochiamo nella percezione alterata. È l'unico modo per combattere questi e impedire che gli esseri umani si mettano in ginocchio, che preghino, che si sottomettano. E questa è la grande battaglia dell'anticristo. Detto questo, speriamo di essere stati chiari, continuiamo la lettura dell'attenzione. Se il gusto è relativo ai fenomeni degli oggetti ingurgitati o succhiati, e generalmente riguardanti il bisogno fame, il bisogno del tatto è il senso attraverso il quale viene palpato il mondo circostante. Il tatto, ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito la lettura, almeno dell'attenzione. Il tatto, pur affermando e trasmettendo tutti i fenomeni relativi all'essere, ottiene il momento della sua esplosione percettiva attraverso il sesso. Nella soddisfazione del bisogno fame, il gusto detiene una funzione di preminenza nei confronti degli altri sensi, pur anch'essi concorrenti alla soddisfazione del bisogno. Nella soddisfazione del bisogno sesso è il tatto il detentore del ruolo primario. In alcune culture si è sesso il tatto delle mani dal tatto con il pene e la vagina, considerandoli due cose separate. In realtà il sesso coinvolge tutte le parti tattili del corpo, pur avendo nei genitali la funzione centrale nella ricerca della soddisfazione del rapporto stesso. La funzione del tatto è una funzione eminentemente sessuale, specie per quanto riguarda il rapporto col mondo circostante. Le mani dell'essere umano palpano il mondo e, da tale palpazione, ne ricevono piacere in quanto, con le sue mani, il mondo palpa l'essere umano dalla qualcosa trae piacere. Il lavoro manuale, quando viene liberato dalla coercizione del comando sociale, è un modo per palpare il mondo, ricevendone da esso stimoli e piacere, fenomeni attraverso i quali ampliare, modificandolo, il giudizio sul mondo. Il sesso è l'elemento attraverso il quale l'essere umano sublima tutte le sensazioni tattili e porta l'attenzione del senso, del tatto, al massimo della dilatazione. Fu per questo che il comando sociale lavorò per coercire e vietare la soddisfazione dei bisogni del sesso, se non quando e alle condizioni che a lui serviva per la creazione di nuovi schiavi attraverso i quali riprodursi. Non che storicamente abbia mai scherzato con i ricatti per quanto riguarda i bisogni di cibo, nello sviluppo della sua azione coercitiva, ma sul sesso è come se avesse alzato la sua ultima barricata. Il sesso, affermano gli adoratori di dei, serve per la riproduzione. In realtà è la riproduzione che nel corso dell'evoluzione della nostra specie si legò al principale bisogno dell'essere umano, il bisogno di conoscere il mondo circostante attraverso la palpazione dello stesso, non viceversa. Le sensazioni tattili delle mani e dell'acute più in generale sono in relazione agli organi genitali, pur avendo una propria autonomia, in quanto la palpazione del mondo è il modo attraverso il quale l'essere umano torna in contatto fisico con la natura nella quale si sviluppò. La repressione o il contenimento del bisogno di sesso o cibo tendono a diminuire il raggio d'azione della percezione dei fenomeni connessi da parte dell'attenzione dei relativi sensi e diminuiscono di conseguenza l'attenzione risultante dell'essere umano. Si descrive la descrizione del mondo elaborata dal giudizio. Il giudizio stesso è vuoto, monco della percezione di determinati fenomeni o, peggio, un giudizio distorto come distorta ne risulterebbe la pratica del sesso o del mangiare. Esiste una pratica corretta? Non esiste una pratica corretta oggettivamente valida per l'intera specie umana. Esistono tante pratiche soggettive quanti sono gli esseri umani, tenendo presente che l'eccesso di cibo rovina stomaco, fegato, coronarie, eccetera. Chi non è prudente si becca l'AIDS o la sifilide, ma al di là di questo ognuno è padrone o dovrebbe essere del proprio fare, purché tale fare non sia coercitivo per nessuno, non ricrei le condizioni del comando sociale. L'odorato è un altro dei sensi ed è legato al respiro, oppure, dicendolo all'induista, è legato al soffio vitale. Perché per molti animali l'odorato è molto più sviluppato che non nell'essere umano? Perché è differente la loro struttura? Come si spiegherebbe la finezza dell'odorato di molti popoli latinoamericani? Come si spiegherebbe la percezione dell'acqua da parte dei boscimani e dei tuareg? L'essere umano comune nei paesi civili non si è mai trovato a dover dipendere dall'odorato per la propria sopravvivenza, se non si considerano profumi ed odoranti. L'olfatto è il senso più trascurato, eppure è vasta la gamma dei fenomeni attraverso esso percepiti. Gli animali da preda sentono gli odori dei predatori portati dal vento. L'essere umano, nei centri urbanizzati, spesso non sente più nemmeno i gas di scarico delle automobili o degli scarichi industriali in grado di avvelenarlo. Lo sviluppo della struttura cerebrale legata all'olfatto si attiva e sviluppa grazie all'uso continuo dell'attenzione ai fenomeni percepiti attraverso l'olfatto. Il non uso dell'attenzione all'interno dell'uso del senso dell'olfatto determina il rattrappimento della struttura stessa o il suo riciclaggio in favore di altri sensi, corteccia cerebrale, eccetera, più utili in quel momento alla sopravvivenza e allo sviluppo del soggetto. Rapporto dialettico fra senso, struttura percettiva ed elaboratrice dei fenomeni. I fenomeni percepiti attraverso l'odorato sono fondamentali e non da meno dei fenomeni recepiti dagli altri sensi forniscono elementi di giudizio sugli oggetti senza i quali la descrizione degli stessi da parte dell'essere umano risulta monca. L'essere umano attraverso l'odorato non solo percepisce informazioni sull'aria respirata ma può captare quanto quest'aria sia viva, quanto sia morta, se gli può far male e quanto o se gli vivifica il corpo. È una questione di sopravvivenza, come per tutti i sensi. Attraverso la respirazione, secondo gli induisti ed altre culture, entra negli esseri viventi il soffio vitale, L'energia vitale è presente nell'atmosfera. L'allenamento dell'attenzione dell'olfatto può salvare l'essere vivente dal respirare aria malata. L'allenamento dell'attenzione nell'olfatto aumenta la percezione dei fenomeni legati a quel senso specifico determinando una migliore descrizione degli oggetti. Della vista sembra quasi superfluo parlare. In realtà, la vista sembra uno dei sensi maggiormente inibito. Si vede quasi soltanto quello che si vuole vedere, quello cui si è addestrati a vedere. La vista, per percepire i fenomeni prodotti dagli oggetti, ha bisogno di essere messa a fuoco sul fenomeno stesso. Nel momento in cui fa questo, automaticamente esclude tutti gli altri fenomeni relativi all'oggetto alla portata di questa attenzione. Il fenomeno non più come qualità o attributo dell'oggetto, ma come oggetto in sé. La qualità del fenomeno, su cui è stata messa a fuoco, è certamente buona, in grado di incidere considerevolmente sul giudizio mirante alla descrizione dell'oggetto. Incidere così facendo si perde di vista l'oggettività in cui l'oggetto, producente il fenomeno, è inserito. Quando il dito indica il cielo, lo sciocco guarda il dito o il cielo. E' come se il gusto, mangiando un minestrone, non fosse usato per gustare un minestrone, ma venisse continuamente messo a fuoco su ogni singolo componente del minestrone stesso. Al termine, si avrebbe la percezione di molti elementi, ma non la percezione di insieme, dell'oggetto considerato, il minestrone. Anche se l'esempio è senza dubbio discutibile, l'abitudine nell'uso della vista è quella della messa a fuoco di un oggetto estragnandolo dall'insieme in cui si trova. La percezione sarà quella del fenomeno specifico dell'oggetto e sfuggirà il rapporto dialettico fra oggetto ed oggettività. Entrambe le cose sono utili ai fini di un uso ottimale dell'attenzione relativa al senso della vista. Comunemente, però, viene insegnata la fissazione dell'attenzione su un singolo fenomeno e non sul rapporto d'insieme. Per questo, un gran numero di persone non sono in grado di produrre valutazioni composite, cioè non solo sui fenomeni percepiti dell'oggetto, ma sull'interazione prodotta dall'ambiente sull'oggetto tale a indurlo, a produrre quei e non altri fenomeni. Questo modo di vedere i fenomeni rappresenta un classico dei psicanalisti e dei psichiatri tanto cari al comando sociale. La loro funzione è quella di adattare gli individui ai desideri del comando sociale, rendendoli schiavi obbedienti. Guai a loro mettere in discussione la relazione comando sociale-sistema sociale come causa prima del comportamento deviante degli individui. Ogni devianza è fisiologica, proclama la Montalcini in aperto di senso col riformatore sociale Basaglia. Per questo motivo alla Montalcini viene assegnato il premio Nobel, mentre per Basaglia si moltiplicano gli sforzi per tentare di confinarlo nell'oblio. Al massimo, il comando sociale può tollerare critiche ad elementi periferici o marginali del sistema stesso, mai al comando sociale nel suo insieme. Il senso della vista, nella vita dell'essere umano qualunque, è molto importante nella percezione dei fenomeni atti a modificare o confermare la descrizione del mondo attraverso il giudizio. Bene l'ha capito il comando sociale, specie da quando, con l'uso della televisione, imparò ad aumentare il condizionamento educazionale degli individui. Se gli esseri umani sospendessero il giudizio rispetto ai messaggi ricevuti direttamente dal comando sociale o fossero scettici rispetto ad essi, il condizionamento sarebbe molto contenuto, come avviene del resto per molti individui i quali preferiscono formulare il giudizio in base alla propria esperienza, anziché aderire a criticamente ai messaggi provenienti dallo schermo o dal comando sociale in genere. Purtroppo, troppi individui sono stati educati all'obbedienza critica, attraverso l'uso del terrore e del ricatto. Per loro, l'addestramento dell'uso dell'attenzione a spaziare per tutti i sensi è molto più difficile e spesso ha bisogno di tanta violenza quanta ne è servita per imporre l'obbedienza a critica. Tanto più difficile sarà il liberarsi della criticità, tanto più costoro si arroccheranno in difesa del nulla nel proprio giudizio. È facile per il comando sociale impedire agli individui la percezione dei fenomeni derivanti da oggetti o avvenimenti. Gli è sufficiente ignorarli. Fingere la non esistenza, dichiarare superflua l'analisi e l'approfondimento, liquidare tutto con una battuta. Per il comando sociale è facile coinvolgere milioni di individui, è sufficiente mettere a fuoco e enfatizzare un fenomeno fino al vomito, toccando i sentimenti condizionati di milioni di persone, pronte a commuoversi o a montare di rabbia per un nome e cognome e ignoranti delle migliaia di altri che pur nella stessa situazione sono solo un numero. Condizionamento educazionale alla sottomissione, al comando del sistema sociale. La quantità dei fenomeni percepiti dalla vista è enorme. La quantità di fenomeni sfuggenti alla vista è infinitamente maggiore. Allenare l'attenzione del senso della vista non significa guardare più televisione o guardarla in modo diverso. Significa guardare il quotidiano sospendendo il giudizio il più a lungo possibile. Essere scettico anche quando si è costretti ad agire attraverso il giudizio di necessità. Così facendo si amplia l'attenzione del senso della vista, aumentando sia la quantità che la qualità dei fenomeni percepiti attraverso tale senso e la descrizione del mondo reale tende a variare rendendola più compenetrabile dal giudizio dell'essere. L'essere forma il proprio giudizio in base alla propria capacità di percepire i fenomeni attraverso la vista ed evita di formare un giudizio attraverso l'imposizione di fenomeni da parte del comando sociale. L'udito è il senso della percezione delle vibrazioni. Le vibrazioni sono percepite attraverso tutto il corpo ma l'udito trasforma, traduce oppure indica o come meglio si può intendere le vibrazioni in fenomeni identificandoli con gli oggetti. Ogni senso è un ricettore specializzato nel trasformare sensazioni in fenomeni identificandoli con un oggetto presunto o reale che sia. È un senso apparentemente anomalo in quanto, stando alla ragione soddisfa un solo bisogno quello della percezione dei suoni. La ragione non sa molto di questo senso salvo che la percezione delle vibrazioni permette all'essere umano di percepire le tensioni del mondo circostante. Se nel mondo reale la vista identifica la forma degli oggetti l'udito identifica il loro stato di essere attraverso la qualità e la profondità delle vibrazioni. Allenare l'attenzione del senso dell'udito non significa soltanto aumentare la qualità e la quantità dei fenomeni recepiti e l'identificazione più precisa degli oggetti attraverso il giudizio ma significa il tentativo di superare la forma la forma nell'identificazione dell'oggetto e un maggior avvicinamento alla percezione della numenia dell'oggetto. Fino ad ora si è parlato come l'allenamento dell'attenzione nei singoli sensi porti allo sviluppo della percezione dei fenomeni quali aumentando di numero e la capacità di attenzione per essi da parte del soggetto modificano il giudizio dell'individuo variando la descrizione del mondo entro il quale gli vive portandola sempre più vicina alla realtà dello stesso fornendogli un solido bagaglio come supporto al proprio fare attraverso il fare costruendo la libertà del fare in funzione dello sviluppo del potere di essere attraverso lo sviluppo dell'attenzione dei singoli sensi si ha lo sviluppo dell'attenzione risultante e specifica dell'individuo la sospensione del giudizio o lo scetticismo considerato a livello inferiore come atteggiamento anche se auspicabile nei confronti del senso dell'udito porta l'attenzione a superare il semplice suono fino a formare immagini eidetiche del fenomeno o dell'oggetto identificabile col fenomeno lo sviluppo delle immagini eidetiche indotte dal suono porta ad una loro modificazione dove anziché informarsi dell'oggetto appare la forza motrice dell'oggetto o del fenomeno emesso tentativo da parte del soggetto di identificare il fenomeno primo la numenia dell'oggetto l'udito fra tutti i sensi è quello che più facilmente può portare all'essenza numenica dei fenomeni qualora attraverso la sospensione del giudizio si riesca ad isolarlo dagli altri sensi almeno in parte il motivo di questa possibilità racchiusa nell'uso dell'udito è da ricercare probabilmente nel sistema sociale all'interno del quale l'essere umano è venuto sviluppandosi da alcune migliaia di anni gli interessi del comando sociale sono quelli di trasformare l'essere umano in schiavo salariato o gioco d'apparenza schiavo pastore di altri schiavi al fine di alimentare e riprodurre se stesso la vista il gusto l'odorato e il tatto sono sensi corrispondenti o ruotanti a dei bisogni fondamentali condizionando i quali il comando sociale esercita il proprio controllo sui suoi schiavi l'udito è il senso non corrispondente direttamente o indirettamente ai bisogni e il comando sociale ritenne non valesse la pena faticare per condizionarlo anche perché attraverso l'udito lo schiavo viene comandato cosa significa percepire l'essenza numerica del fenomeno? significa recepire un fenomeno sottraendolo alla descrizione del giudizio significa accettare un fenomeno per ciò che è e non per ciò che noi lo traduciamo riferendolo all'oggetto quante persone sentendo rumori nella notte li identificano con situazioni di paura quando sono solo rumori e viceversa? è la descrizione del giudizio a creare l'inganno eppure basterebbe un atteggiamento scettico per evitare l'inganno e la sospensione del giudizio per identificare la numenia del fenomeno pur tuttavia anche senza identificarlo con l'oggetto la percezione del fenomeno attraverso il senso dell'udito determina il fare dell'essere senza essere mediato dalla descrizione più o meno funzionale del giudizio l'azione non più come fare determinata dal giudizio di necessità il quale può essere più o meno preciso a seconda dell'allenamento a cui il soggetto ha sottoposto la propria attenzione ma soggetto alla numenia del fenomeno al fenomeno per l'essere in sé e non per la sua apparenza l'attenzione così utilizzata dell'udito conduce allo sviluppo delle capacità eidetiche degli esseri umani le immagini eidetiche sono definite in psicologia e fisiologia come la capacità di trattenere sulla retina dell'occhio immagini per un certo tempo dopo la chiusura delle palpebre in realtà le immagini eidetiche così definite in quanto non dispongo di altro termine prodotte dalla sollecitazione dei sensi tradotti in immagini mentali in situazioni di sospensione del giudizio costituiscono il primo passo nella reazione ai fenomeni e nella loro interpretazione oltre la mediazione del giudizio tali immagini saranno sempre incerte e imprecise in quanto sospendendo l'uso della descrizione del giudizio attraverso il quale noi fondiamo la descrizione entro la quale ci muoviamo e sviluppiamo queste non trovano un riferimento preciso dal quale partire verso la creazione di un nuovo ordine il soggetto inizialmente sommerso dalle immagini tenderà a costruire e descrivere una struttura interpretativa entro la quale ritrovarsi tenderà cioè a mettere ordine nel caos delle immagini dettate dal nuovo nella percezione dei fenomeni mettere ordine in quel caos non ha senso sarà necessario farsi compenetrare da quel caos senza perdere di vista l'uso della descrizione del giudizio nel quotidiano altrimenti il comando sociale qualifica l'individuo come pazzo e avrà buon gioco nell'isolarlo o eliminarlo mettere ordine in quel caos porterà il soggetto a ridefinire il mondo della ragione e questo è un procedere lo scopo non è quello di dare una sistemazione al caos dello sconosciuto ma di liberare il soggetto dalle restrizioni del mondo della ragione permettendogli di spaziare nel caos a proprio agio senza la necessità di piegarlo ai propri schemi di condizionamento e nello stesso tempo senza perdere di vista la descrizione del quotidiano per non permettere al comando sociale di isolarlo l'attenzione dell'udito componendosi con l'attenzione degli altri sensi il rapporto dialettico fra loro determina l'attenzione specifica dell'individuo questa attenzione agisce di insieme nella formazione della descrizione del giudizio nell'individuo mediante la percezione dei fenomeni attraverso i cinque sensi costruendo un rapporto dialettico fra i sensi e i fenomeni dei si recepiti provenienti da uno stesso oggetto tanto più allenata sarà la risultante dell'attenzione dei sensi e tanto più chiara e precisa risulterà la descrizione degli oggetti da parte del giudizio e più preciso sarà il giudizio di necessità dell'individuo determinante il fare l'attenzione risultante ha un altro senso definito come ascolto questo senso può essere rivolto all'interno di noi stessi più che un senso è un modo di volgere l'attenzione risultante dell'individuo anziché rivolgerla verso l'esterno si può rivolgerla all'interno di noi stessi nel cristianesimo esiste un corrispondente dell'eterio di questo chiamato dai cristiani esame di coscienza essi attraverso l'esame di coscienza rivolgono la descrizione del mondo dal circostante all'interno di se stessi essi piccoli dei padroni del quotidiano come il loro dio pretende di giudicare gli esseri loro giudicano da giudici gli esseri attraverso il pensato e poi attraverso il pensato giudicano se stessi questo danneggia l'individuo costringendolo a soggiacere al flusso delle parole le quali traducendo i fenomeni in ripetizione ossessiva preghiere piegano la propria mente soggiacendola ad un dio ipotetico trasformandosi in schiavi servili pronti alla produzione di altri schiavi per gli scopi del comando sociale uno degli elementi legato alla sospensione del giudizio è la sospensione del dialogo interno se tale sospensione ha valore relativo seppur molto importante quando l'attenzione risultante dell'individuo viene rivolta verso l'esterno diventa fondamentale quando l'attenzione viene rivolta verso l'interno l'attenzione non è un qualche cosa privo di sostanza è lo sforzo fatto dall'organismo per convogliare le forze fisiche energetiche e psichiche alla base dei sensi verso una direzione a seconda della direzione intrapresa l'organismo si rafforza o si indebolisce l'attenzione risultante di un individuo non solo può ma deve essere portata all'interno del corpo scoprendo a poco a poco la sensazione dell'esistenza delle singole parti percependone la presenza e l'individualità questo fare ottiene un duplice scopo crea un flusso di tensione fra interno ed esterno e permette all'individuo la scoperta delle correnti vegetative le correnti vegetative sono correnti di bioenergia energia vitale presenti nel corpo e percorrendolo lo rivitalizzano non solo miracolose come un'aspirina nel far passare il mal di testa ma persistenti quotidianamente rivitalizzano il corpo oscillare l'attenzione fra esterno del mondo circostante e all'interno del corpo prima scoprendo il corpo e poi ascoltando le correnti vegetative questo rafforza le correnti vegetative e queste a loro volta rafforzano le capacità di uso dell'attenzione dei sensi e l'attenzione risultante dell'individuo la descrizione dello sviluppo ulteriore dell'attenzione a questo punto deve essere sospesa in quanto il proseguo è determinato dallo sviluppo della soggettività specifica del singolo individuo mentre sviluppa l'attenzione dei sensi comuni al corpo luminoso in formazione e al corpo fisico nel contesto oggettivo in cui si trova un individuo violento rimane un individuo violento un individuo mite rimane un individuo mite un individuo appassionato rimane un individuo appassionato e viceversa ah bene sono arrivati i ragazzi l'allenamento dell'attenzione indirizza la violenza soggettiva in direzioni non distruttive ma funzionali all'ulteriore sviluppo dell'individuo indirizza la mitezza nella pazienza della sospensione del giudizio e nella ricerca della conoscenza anziché nella sottomissione a critica indirizza la frenesia delle passioni nella ricerca dello sviluppo della soggettività anziché alla ricerca di mezzi di mezzi di possesso il potere di essere di ogni individuo dipende dalla sua capacità di usare la sua attenzione nel mondo quotidiano della ragione facendolo oscillare fra esterno ed interno dell'individuo l'uno e l'altra si integrano diventando uno questa esperienza appartiene al divenire degli esseri praticando un lavoro sull'attenzione dei sensi esiste un altro tipo di attenzione ed è quella praticata dagli individui per entrare nei propri sogni ed acquisire la coscienza di sognatori questa è una capacità tendente a proiettare un individuo in dimensioni sconosciute al quotidiano descritto dal giudizio appartengono sia pur a livelli e stati diversi di sviluppo al caos della percezione numenica anche se vengono mediate nella trasposizione dei fenomeni dal percepito della coscienza dalla descrizione imposta dal giudizio più perfetta e vasta sarà la descrizione del giudizio nei confronti degli oggetti del quotidiano e più vicina alla realtà numenica sarà la rappresentazione sognata dei fenomeni e degli oggetti corrispondenti più ampiamente sarà trattato più ampiamente questo sarà trattato in altra parte la rappresentazione numenica dell'universo più in piccolo diremo del mondo circostante non è descrivibile in quanto non solo estranea la descrizione del giudizio sempre parziale soggettiva e unilaterale anche se migliori delle precedenti per quale necessità gli esseri umani dovrebbero vivere sviluppando in continuazione la loro attenzione fino alla percezione numenica del circostante cioè superando la percezione del giudizio riuscendo a coniugare il rapporto percezione fare perché questo aumenta il potere di essere soggettivo la propria carica vitale e questa carica in grado di consentire loro la trasformazione della morte dell'essere fisico in nascita dell'essere luminoso altrimenti per l'essere umano c'è solo la disperazione o come direbbe il Buddha il nirvana senza sensazioni né contraddizioni ma anche senza coscienza in quanto la propria energia troppo poca per rimanere compatta al momento della propria morte si dissolve nel vento mentre il corpo come ogni corpo fisico marcisce pasto dei vermi così il comando sociale raggiunge il suo scopo nei confronti dei suoi schiavi asservite ad un dio assassino sacrificano da schiavi la possibilità della propria vita nella speranza di un illusorio paradiso oltre la morte il feto non è cosciente della finalità del proprio sviluppo la sua percezione è rivolta ai fenomeni provenienti dalla madre rappresentante per lui il mondo i fenomeni esterni giungono a lui deformati e filtrati dalla descrizione del giudizio dato dalla madre attraverso la sua reazione fisica e psichica alla percezione dei fenomeni stessi il feto ha un vantaggio sull'essere umano il suo condizionamento è limitato solo un riflesso di quello acquisito dalla madre l'essere umano viene condizionato nei comportamenti nella percezione nelle reazioni dal sistema sociale e dal suo comando pertanto il feto lotterà per la propria sopravvivenza anche a costo di succhiare ogni goccia di vita dalla madre l'essere umano inerme fin da bimbo viene sottomesso giungendo vuoto alla meta il feto il feto giunge alla sua morte nelle migliori condizioni possibili in cui si sviluppa l'essere umano giunge alla sua morte succhiato dal comando sociale senza forza né energie così l'essere umano perde l'occasione per la quale esiste riuscire a trasformare la propria coscienza di essere dal corpo fisico al corpo di energia costruito nel corso di tutta la propria vita né il feto né l'essere umano conoscono compiutamente il proprio divenire oltre alla propria morte ma mentre il feto come compito ha quello di costruire la propria struttura fisica attorno allo spermatozoo e all'ovulo usando la carica di energia vitale messa a disposizione dalla madre e dal padre e il suo ipotizzare è relativo allo sviluppo del proprio corpo l'essere umano sviluppando la propria attenzione e attraverso questa il proprio corpo di energia vitale giunge inevitabilmente alla percezione del proprio divenire in ogni caso la disperazione del terrore per la morte e la percezione del non divenire della perdita di un'occasione irripetibile l'indifferenza per la morte o il piacere per il bisogno del suo divenire sono gradi diversi dell'attesa per la soddisfazione di un bisogno e il suicidio in special modo di essere umani giovani questo è uno dei capolavori del comando sociale è riuscito a spezzare in quegli individui la capacità di percepire il circostante ha distrutto la loro attenzione dei sensi trasformandoli in automi e costoro si sottraggono al controllo dello stesso attraverso il suicidio questo è il trattato sull'attenzione e l'abc dalla quale partiamo per afferrare la magia del mondo vediamo un attimo pronto? pronto? questo è il trattato sull'attenzione l'attenzione è la capacità di concentrare tutto noi stessi sui sensi cioè sulla vista sull'udito sul tatto sul gusto cioè riuscire a mettere tutto noi stessi mentre facciamo un'azione quando noi riusciamo a mettere tutto noi stessi mentre noi facciamo un'azione facciamo un atto di magia cioè l'azione da azione normale da azione meccanica diventa automaticamente un'azione magica diventa un atto di stragonaria perché modifica noi stessi cioè quando noi mettiamo l'attenzione all'interno delle nostre azioni all'interno delle nostre capacità percettive altro non facciamo che modificare la nostra attenzione facciamo un esempio se ogni volta che io ho un problema mi metto in ginocchio mi metto a pregare io non sono più in grado a un certo punto di risolvere i problemi perché mettendomi in ginocchio non ho costruito me stesso se ogni volta che io ho un problema da affrontare io mi rimbocco le maniche cerco di capire i termini cerco di elaborare perché dov'è questo e lo risolvo aumento continuamente la mia capacità di risolvere i problemi vediamo pronto sono Francesco da Vicenza dimmi dicevo che voi siete come i preti di Roma fatte della sessuologia a coperta bisogna parlare chiaramente della sessuologia dell'uomo l'uomo oltre che che fa la pittia e la popò che ha anche il sesso e parecchi i giovanici si trovano incontro a questo nuovo sesso e fanno bene affrontarlo con la masturbazione voi siete come i preti di Roma condannate il sesso e invece il sesso è vivido e felice va bene mi ascolti tu? certo come no? sto guardando ascoltando quando il giovanicio scopre i peli sotto la sceglie il pelo sul pube si dice ma che mi succede? eppure che cosa succede? che lì si trova improvvisamente una grande novità il sesso e lui si soddisfa come che può che le tutte le religioni compresa quella cattolica dicevo che il sesso porta alla città alla ha lo spavolamento del cervello mentre è una soddisfazione che il giovanicio cerca di se stesso perché non può trovare niente non può trovare niente nei preti di a chi di Roma va bene lui trova la sua sessualità per conto suo e la trova molto bene spegni la io parlo di sessualità perché oggi nel mondo tecnologico intenzializzato si parla molto di sessualità e bisogna di usare sti giovani le sessualità non alle chiese non alle antichiese alle chiese d'accordo valore abbiamo sentito il tuo pensiero ma mi hai raccolto bene certo molto bene che mi hai messo in diretta grazie ciao buon lavoro grazie niente diciamo questo radioscordatori noi grazie noi non è che ci abbiamo quel sesso per noi il sesso è un atto di magia è un atto importantissimo ed è un momento di costruzione dell'individuo non solo questo ma noi non diciamo agli individui come fare sesso ogni individuo fa sesso come più gli piace come più gli piace e non esiste nessun nessun dogma che impedisca di fare sesso per noi il sesso specialmente nel medioevo è stata l'ultima resistenza perché la si concentrava l'ultima energia vitale prima che i cristiani ci distruggessero il nostro divenire il problema del fare sesso e del parlare di sesso una trasmissione di magia stragonaria paganesimo è un problema perché perché purtroppo noi è vero che siamo riusciti a sopravvivere nel medioevo attraverso la magia sessuale ma è altrettanto vero che la magia sessuale serve anche a sottomettere e a imbrogliare molte persone perché il sesso viene recepito immediatamente come bisogno ed è facile giocare sulle persone e allora per impedire che le persone vengano truffate noi abbiamo tenuto lontano da questa trasmissione tutti i discorsi sulla magia sessuale anche se riteniamo la terza parte del libro dell'anticristo la fondazione della libertà cosa significa la fondazione della libertà vi ho parlato di che cos'è la conoscenza dialettica e divenire il tentativo di definire la teoria della dipendenza vi ho fatto quel peso sul tempo l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive che ho parlato del tempo soggettivo del tempo imposto che è importantissimo perché quando voi vi leggete Castaneda nella percezione alterata perché per esempio gli stragoni non sono mai riusciti ad agire sul mondo del quotidiano o non sono mai riusciti ad agire in maniera diretta perché mancavano della concezione del tempo cioè non riuscivano a capire che il tempo in percezione alterata in corpo di sogno in mondi diversi scorre in maniera diversa perché il tempo non è oggettività ma è misura del mutamento allora se io altero la percezione effetto un'azione su un campo vitale l'azione che io effetto su un campo vitale ha delle ripercussioni sul mondo fisico in maniera diversa anche se io agissi direttamente sul mondo fisico quasi tutta la magia ogni volta che si usa magia vera cioè si agisce sul campo vitale di qualcuno non ha gli stessi effetti dell'aspirina col mal di testa anche se è possibile fare una magia per far passare il mal di testa i tempi di variazione i tempi di mutamento sono estremamente diversi e non sono valutabili non sono quantificabili perché nessuno si è mai preso la briga di costruire nuove descrizioni nuove catalogazioni nuove numerazioni poi vi ho parlato dell'attenzione vi ho finito oggi l'attenzione e vi ho parlato di a proposito dei sentimenti la compassione la simpatia il compatire e l'empatia e vi ho finito la terza parte del libro dell'anticristo della prossima volta affronteremo la quarta parte del libro dell'anticristo ed è l'anticristo e il mondo circostante cioè come viene visto il mondo circostante con gli occhi dell'anticristo cioè il mondo circostante noi lo vediamo un albero è un albero però dal punto di vista della magia un albero non è solo un albero è anche una coscienza è un dio e così vale per un verme vale per un virus vale per i batteri vale per l'essere terra vale per il cielo e vale per tutte le linee di tensione che attraversano gli esseri tutto questo insieme è un divino che costruisce delle relazioni cosa significa costruire una relazione significa riversare la propria energia in un altro e ricevere dall'altro la nostra energia costruire una relazione è un atto di stregoneria quando noi parliamo del sesso per esempio un rapporto sessuale fatto bene cioè fatto di reciproco interesse non è altro che un riversare della propria energia nell'altro e dell'energia dell'altro nella propria è una fusione energetica dove allo stacco ognuno si riprende la propria energia però più rivitalizzata più vivificata per questo il sesso è un atto di magia è un atto di stregoneria ma questo vale per ogni azione vale per ogni relazione che noi facciamo noi possiamo fare una passeggiata nel bosco e resta solo una passeggiata nel bosco ma possiamo usare la nostra attenzione nel bosco ed ecco che la passeggiata nel bosco diventa una relazione fra noi e il bosco quando ci stacchiamo il bosco si riprende la sua energia io mi prendo la mia ma è rivitalizzata viene rivitalizzata dall'azione del bosco e il bosco ha un'energia rivitalizzata dalla mia azione questo significa in magia e stregoneria costruire delle relazioni significa fondere i propri campi vitali significa dare qualcosa a un altro e ricevere dall'altro qualche cosa ciò che non succede nelle religioni rivelate nelle religioni rivelate l'essere umano è possesso dal dio il dio fa il patto il dio rompe il patto il dio fa quello che vuole lui è onnipotente lui è qualunque cosa l'essere umano deve sottomettersi l'essere umano non riceve nulla dal dio se non la propria distruzione riceve la propria distruzione perché? perché nelle religioni rivelate nelle religioni monoteiste il dio chiude sbarra la porta che conduce all'albero della vita eterna ecco dice il dio monoteista l'essere umano è diventato come uno di noi è diventato un dio dunque facciamo in modo che non colga dall'albero della vita eterna e vivi in eterno cioè entri a costruire la coscienza universale dunque la sua strada deve essere sbarrata l'essere umano deve morire deve essere distrutto perché il dio monoteista si compiace della distruzione degli esseri umani no dice il paganesimo l'essere umano come ogni altro essere esistente è un divino che marcia verso l'eternità e può marciare verso l'eternità soltanto se non si mette in ginocchio soltanto se riafferma se stesso soltanto se prende in mano le proprie decisioni la propria volontà affronta le contraddizioni della vita se l'essere umano affronta le contraddizioni della vita e non si mette in ginocchio ogni contraddizione che supera diventerà più forte sarà sempre più abile ad affrontare le contraddizioni svilupperà il proprio potere di essere ma se l'essere umano si mette in ginocchio o viene messo in ginocchio fin da bambino fin da bambino gli si impedisce di affrontare la vita fin da bambino gli si impedisce di affrontare le contraddizioni fin da bambino si distrugge la sua capacità di determinare la sua capacità di usare la volontà quando sarà adulto razionalmente capirà che la religione la religione rivelata è un imbroglio ma sarà solo il suo pensiero sarà solo la sua descrizione che dirà questo intimamente è stato distrutto intimamente spererà di trovare una porta una strada verso l'eternità ma a quel punto per riuscire a percorrere una strada verso l'eternità dovrà fare una grandissima fatica dovrà ripercorrere tutta la violenza che è servita per metterlo in ginocchio dovrà riprendersi in mano la propria vita e di quella violenza che lui dovrà fare per riprendersi in mano la propria vita sarà cosciente in ogni istante per cui sarà un percorso dolorosissimo e durissimo uscire fuori dalla posizione in ginocchio è la più grande operazione di stregoneria che possa esistere e noi lo possiamo fare questa operazione chiamando le divinità del circostante a sorreggerci quello del vuotio che io vi sto leggendo è un modo per invocare le divinità del circostante è un modo per dire al divino che ci sta attorno oh cocco io non ho nessuna intenzione di essere ancora in ginocchio vedi di darmi una mano e siccome lo scopo del divino è quello di impedire agli esseri che si spacciano per dei creatori di cibarsi il divino soccorre chiunque non vuole più mettersi in ginocchio il divino soccorre chiunque vuole sviluppare il dio che ha dentro il divino soccorre chiunque voglia ribellarsi dall'essere il gregge che va verso il macello questo è importante da sapere è importante perché noi possiamo chiamare le divinità che ci circondano per aiutare il nostro percorso però per farlo dobbiamo usare la nostra determinazione dobbiamo essere più positivi dobbiamo dire basta io in ginocchio non ci sto più io a questo gioco non gioco più io voglio cominciare a prendermi in mano la mia vita vediamo pronto? chiese dimmi ciao buon lavoro il problema è questo è soltanto liberando gli esseri umani da questa posizione soltanto strappando il dente velenoso del monoteismo è possibile costruire un cammino di libertà se i bambini come oggi vengono stuprati è perché i bambini sono considerati oggetto ma non sono considerati oggetto perché qualcuno è malvagio come dice il pato a Nazareth sono considerati oggetto perché tutta la vita degli esseri umani da parte della chiesa cristiana è considerata oggetto cioè gli esseri umani sono oggetto posseduti da qualcuno li possiede è Dio che possiede gli esseri umani è il Gesù che possiede gli esseri umani è la chiesa che si identifica con Dio che possiede gli esseri umani è il prete che possiede la parrocchia è il capofamiglia che possiede la famiglia per uscire da questo inghippo per uscire da questa costruzione dobbiamo riuscire a pensare non come insieme di cose ma come individualità cioè l'essere umano come individuo l'essere umano come possibilità di determinare se stesso al di là di qualsiasi tipo di proprietà li si vuole imporre in pratica l'essere umano non appartiene a una famiglia ma appartiene a se stesso questo è importantissimo da ricordare non esistono doveri di padri non esistono doveri di madri non esistono doveri di figli esistono i doveri sociali che sono imposti giuridicamente ma dal punto di vista morale non esiste doveri di madre doveri di padri e doveri di figli se dei genitori vogliono fare dei figli si assumono la responsabilità di quello che fanno hanno fatto dei figli seguono quei figli finché quei figli giungono la possibilità di camminare da soli però è un lavoro non ci sono delle costrizioni morali per farlo ed è giusto che ci sia l'aborto perché? perché attraverso l'aborto attraverso gli anticoncezionali si può scegliere se avere o non avere figli non si è obbligati a mantenere figli che non si sono voluti perché qualcuno ha voluto fregarvi sul sesso uno se vuole far figli fa figli se non vuole figli fa sesso perché ha diritto di fare sesso come gli piace fare sesso e non ha il dovere di fare figli non ha il dovere di fare bestiame per un dio questo concetto è il concetto più abberrante che le chiese cristiane hanno introdotto nel divenire umano ed è inutile che un prete dice ma io in quelle cose ci credo sono fatti tuoi se tu credi nelle cose sono fatti tuoi il problema è che queste cose vengono imposte a livello sociale viene trasformato in leggi viene trasformato in imposizioni e questo non è accettabile questo deve essere rifiutato bene io finisco qui la trasmissione magia stregonaria paganesimo vi ricordo che io sono Claudio Simeoni se qualcuno interessa agli argomenti via delle vignole 4 Marghera Venezia e vi do anche l'indirizzo dell'istituto Mediterraneo studi politeisti che è un indirizzo postale è casella postale 53 Marostica Vicenza e a risentirci a giovedì prossimo alle ore 15 dove facciamo la trasmissione magia stregonaria paganesimo e parleremo di un altro paganesimo nordico affronteremo ancora degli altri principi che diventeranno i principi del paganesimo vediamo un attimo pronto che diventeranno i principi del paganesimo e stiamo facendo l'analisi dei paganesimi dei vari paganesimi che abbiamo incontrato cioè alcuni piccoli paganesimi proprio per riuscire in poche righe a identificare tutta una serie di concetti fondamentali una volta identificati i concetti fondamentali parleremo della costruzione del paganesimo come religione ricordiamo che il dogma è un principio inamovibile il dogma determina un principio dal quale non si può uscire ebbene tutti i dogmi delle religioni rivelate determinano imposizione e sottomissione agli individui mentre invece i dogmi del paganesimo i dogmi che andiamo a elaborare determinano il diritto alla soggettività dell'individuo il diritto a non essere sottomesso il diritto alla propria libertà il diritto a sviluppare il potere di essere e sono dogmi assoluti cioè sono principi assoluti che vanno oltre lo spazio del tempo bene allora io qui chiudo la trasmissione di Magistro con aria paganesimo parte seconda il libro dell'anticristo e ci vediamo ci sentiamo giovedì prossimo ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato e a risentirci oltre lo spazio